GF VIP 7, a Michelin Corvaia non frega di Edoardo Tavassi? La risposta dell'ex VIPona. Michelin Corvaia, reduce dall'esperienza nella settima edizione del Grande Fratello VIP, ha svelato quali sono i rapporti attuali con gli ex coinquilini. Nello specifico, la sorella di Clizia Incurvaia ha così replicato ad un utente che, attraverso il box domande da lei inserito nelle Instagram Stories, le ha chiesto chi ti porti fuori da questa esperienza. Ha quindi precisato quanto lei ed Edoardo Tavassi siano legati a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, augurandosi di poterli vedere al più presto. Sull'esperienza nella casa di Cinecittà, Nicola ha ribadito quanto detto una volta entrata in studio a seguito della sua eliminazione nella finalissima. Nicola ha poi replicato a chi ha insinuato che lei non sia realmente interessata ad Edoardo. Con il quale nella casa è instaurato un legame sentimentale. A seguire, ha sottolineato che lo stile degli outfit sfoggiati al Grande Fratello non era quello a cui era abituata prima di partecipare al programma. Uno stile, di ispirazione gothic, che ha ammesso di apprezzare, poi svelando i fan che in futuro realizzerà più contenuti dedicati alla moda. Infine, Nicola ha spiegato cosa ha provato una volta tornata alla quotidianità e cosa si aspetta dal futuro con Edoardo.